Bentornate e bentornati al Tg del salvagente. Autorizzati con una certa velocità due nuovi mais OGM della Corteva in Europa. Sorgono però i dubbi da parte dell'Associazione Francese dei Consumatori rispetto alla tecnica che porta a produrre una sorta di pesticida genetico che potrebbe però impattare gli impollinatori. Sentiamo i dettagli. Negli ultimi mesi la Commissione Europea ha autorizzato la commercializzazione di due nuove varietà di mais geneticamente modificato destinate all'alimentazione animale e umana provocando reazioni accese tra esperti scientifici e associazioni di consumatori. L'associazione francese UFC Cesuasir, uno dei più importanti organismi di difesa dei consumatori transalpini, ha sollevato serie preoccupazioni riguardo l'impatto di questi nuovi prodotti sul piano della salute pubblica e ambientale. Il fulcro del dibattito riguarda l'uso di nuove tecnologie genomiche, come il pesticida genetico prodotto da una delle varietà di mais approvate. La questione sollevata dall'UFC Cesuasir non è soltanto legata alla tecnologia in sé, ma riguarda la rapidità con cui la Commissione Europea ha approvato la commercializzazione di questi prodotti senza un quadro normativo solido. La legislazione europea in materia di OGM è ancora in fase di revisione e l'associazione teme che si possano trascurare aspetti fondamentali relativi alla trasparenza e alla sicurezza alimentare. La preoccupazione maggiore riguarda il mais DP 2321-1, una varietà che incorpora una nuova tecnologia in grado di produrre un pesticida genetico. UFC Cesuasir ha espresso preoccupazione per la mancanza di studi indipendenti che valutino l'impatto di questo nuovo tipo di pesticida sull'ambiente. L'associazione, in linea con altre organizzazioni di protezione degli insetti come Pollinis, teme che il meccanismo del pesticida genetico possa influenzare non solo il parassita target, ma anche specie di insetti geneticamente affini, comprese le popolazioni di impollinatori già in declino. Un impatto negativo sugli impollinatori potrebbe avere effetti devastanti sull'ecosistema e l'agricoltura a livello globale. L'Agenzia europea per la sicurezza alimentare ha giudicato sicuri questi nuovi mais OGM, non riscontrando problemi di tossicità o allergenicità. Tuttavia l'UFC Cesuasir ha contestato questa valutazione, mettendo in dubbio la trasparenza del processo di approvazione e l'indipendenza degli esperti coinvolti. Mentre l'autorizzazione dell'Unione Europea si limita attualmente all'importazione e alla commercializzazione del mais OGM, l'UFC Cesuasir solleva interrogativi cruciali sul loro impatto a lungo termine per i consumatori europei. Inoltre l'associazione chiede chiarezza sull'impatto che questi prodotti potrebbero avere su animali di allevamento e umani, nel caso in cui consumassero tali alimenti. Sebbene le autorità europee sostengano che non ci siano prove concrete di rischi per la salute, l'UFC Cesuasir rimane scettica, sottolineando la necessità di ulteriori ricerchi indipendenti e di una sorveglianza continua sui prodotti OGM che entrano nel mercato alimentare. Sempre più frequenti le proteste per il clima. Secondo però Climate Rights International i paesi ricchi e democratici del nord condannano le tattiche di repressione da parte dei paesi del sud, eppure sono i primi a farlo in casa propria. I paesi ricchi e democratici del nord del mondo stanno reprimendo in maniera dura le proteste per il clima, mentre criticano allo stesso tempo simili tattiche da parte delle autorità del sud del mondo. A dirlo è un rapporto di Climate Rights International che espone il trattamento sempre più pesante degli attivisti per il clima in Australia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti. Come scrive il Guardian che riporta la notizia, il report ha scoperto che la repressione in questi paesi, comprese lunghe pene detentive, detenzione preventiva e molestie, è stata una violazione della responsabilità legale dei governi di proteggere i diritti fondamentali alla libertà di espressione, riunione e associazione. Evidenzia anche come questi stessi governi criticano spesso i regimi nei paesi in via di sviluppo per non rispettare il diritto di protestare pacificamente. I governi troppo spesso hanno una visione così forte e di principio sul diritto alla protesta pacifica in altri paesi, ma quando non gradiscono certi tipi di proteste in patria approvano leggi e schierano la polizia per fermarle. Questo spiega Brad Adams, direttore di Climate Rights International. In Europa, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, le autorità hanno risposto alle proteste non violente per il clima con arresti di massa e nuove leggi draconiane che hanno portato a lungo condanne al carcere. In alcuni casi i partecipanti sono stati etichettati come teppisti, sabotatori o ecoterroristi da politici e media. Non è necessario essere d'accordo con le tattiche degli attivisti per il clima per comprendere l'importanza di difendere i loro diritti di protesta e di libertà di parola, questo ha affermato Adams. Invece di incarcerare i manifestanti per il clima e minare le libertà civili, i governi dovrebbero ascoltare la loro chiamata ad agire con urgenza per affrontare la crisi climatica. Gli autori del rapporto hanno evidenziato diversi esempi di paesi sviluppati che hanno elogiato l'importanza del diritto di protesta sulla scena internazionale, mentre intraprendevano repressioni dure e punitive in patria. Accogliendo con favore un rapporto delle Nazioni Unite a luglio di quest'anno, il governo del Regno Unito ha affermato che questi diritti sono essenziali per il funzionamento della società, fornendo una piattaforma per i cittadini per sostenere un cambiamento positivo. Tuttavia lo spazio civico è sempre più contestato, poiché governi e attori autoritari che si sentono vulnerabili al controllo e alla responsabilità cercano di mettere a tacere il dissenso. Climatrise International ha invitato i governi democratici di tutto il mondo a fermare la repressione autoritaria e proteggere i diritti delle persone a protestare. I governi dovrebbero vedere i manifestanti e gli attivisti per il clima come alleati nella lotta contro il cambiamento climatico, non come criminali. La repressione delle proteste pacifiche non è solo una violazione dei loro diritti fondamentali, ma può anche essere utilizzata dai governi repressivi come via libera per perseguire i difensori del clima, dell'ambiente e dei diritti umani nei loro paesi. 27 colluttori sono stati analizzati dalla rivista tedesca Ocotest. Di questi moltissimi marchi famosi sono stati bocciati per la presenza di sostanze preoccupanti. Sentiamo quali. I colluttori peggiori sono quelli dei marchi noti, ovvero parodontax e listrin. Le critiche riguardano la presenza di sostanze preoccupanti come l'olio di T3, il clorexidina di gluconato, il metilsalicilato e il sodio laurisolfato, che non dovrebbero trovarsi in questi prodotti. Valutata negativamente anche l'aggiunta di alcol, che può essere critico per i bambini e per le persone con dipendenza, dal fronte opposto ben 13 prodotti sono stati promossi a pieni voti con un giudizio ottimo. In diversi colluttori analizzati sono state trovate sostanze problematiche, a cominciare dall'olio di T3, che viene utilizzato come principio antibatterico. La sostanza estratta dalle foglie e dai rami dell'albero del tè australiano può causare reazioni allergiche e una raccomandazione dell'Istituto federale per la valutazione dei rischi ha stabilito un tetto massimo dell'1% di alio di T3 nei cosmetici. Tale limite è rispettato dai prodotti testati, ma c'è un ulteriore allerto su questa sostanza e riguarda la sua potenziale tossicità riproduttiva e i sospetti effetti dannosi sullo sviluppo. Per questo è attualmente sotto esame e, se in autunno l'Agenzia europea delle sostanze chimiche lo classificherà ufficialmente come tale, sarà vietato anche nei cosmetici. Buone notizie per i prodotti che contengono fluoro. Hanno effettivamente un effetto preventivo sulle carie, poiché il fluoro rinforza lo smalto dei denti, remineralizza la superficie dentale e la rende più resistente agli acidi e ai batteri. Tutti i colluttori testati non superano le quantità massime di fluoro raccomandate. In molti colluttori sono presenti alcuni principi effettivi antibatterici come il cloruro di cetilpiridinio e oli essenziali come mentolo, timolo ed eucaliptolo, che contribuiscono alla rimozione della placca, così come le combinazioni di zinco e stagno. I parabeni svolgono un ruolo importante per conservare i prodotti cosmetici, assicurano la stabilità dei prodotti, prevengono la contaminazione microbica e garantiscono la sicurezza dei consumatori. I nostri prodotti contengono solo la quantità di conservanti necessaria per ottenere l'effetto corrispondente e ci assicuriamo che i valori siano supportati da dati scientifici disponibili. Il metilparabene e il propilparabene sono stati classificati come sicuri per l'uso in prodotti cosmetici, rispettivamente nel 2023 e nel 2021 dal Comitato Scientifico Indipendente per la Sicurezza dei Cosmetici che fornisce consulenza alla Commissione Europea. Il momento ora dell'intervista all'editore del Salvagente Matteo Pago. Una particolare tipo di truffa, che in realtà è un reato molto più grave, viene chiamato nel mondo anglosassone spoofing. Tecnicamente questa parola significa impersonare l'identità di qualcun altro, cioè far finta di essere qualcun altro e quel qualcun altro potremmo essere noi stessi, può essere qualche nostro amico, parente o può essere anche un'azienda, cioè anche nel momento in cui ci chiamano dicendo sono Amazon e ti voglio vendere delle azioni, di fatto stanno facendo in qualche modo uno spoofing. Lo spoofing, questo basta dire, mi interessa e finisce lì. Il problema è lo spoofing, sono alcune truffe che si stanno diffondendo, che sono anche poi delle cose anche più gravi, in cui vengono utilizzate delle tecniche per cercare di far finta, di farci cadere in qualche tranello. La più comune di cui sicuramente avete tutti sentito parlare, perché se ne è sentito molto parlare ultimamente purtroppo su tutti i mezzi di informazione, sono quelle truffe in cui ci chiama qualcuno, ci arriva un messaggio di qualcuno che dice di essere un nostro parente, un figlio, una madre, un parente di qualunque tipo, dicendoci che abbiamo perso il cellulare, chiamami a quest'altro numero. Lì quello è l'inizio di una truffa molto pericolosa, questo è in sostanza una forma di spoofing che attacca soprattutto le persone anziane, perché cerca di metterli in allarme, poi ci sono una serie di catastrofi che vengono raccontate, sono stato arrestato, sono fatto l'incidente con la macchina, ho perso il cellulare dentro l'acqua, vengono inventate le storie veramente surreali e il problema è che poi queste persone sono molto abili nel far credere alla persona che li contatta, che inadvertitamente li contatta, che si tratta di una truffa, una truffa che porta poi purtroppo a perdite di denaro molto consistenti, perché qui c'è tutto un meccanismo poi che viene innescato estremamente sofisticato, quindi attenzione nel momento in cui ricevete messaggi di questo tipo. Altro tipo di spoofing più tecnologico, più sofisticato è invece tutto quello che tenta per esempio di prendere il controllo del nostro numero di telefono, questa è una cosa molto comune per esempio succede spesso negli Stati Uniti e c'è un problema più che altro di call center che non stanno attenti a questo tipo di informazioni, in cui viene tentato di rubarci il numero di telefono, viene tentato di rubarci il numero di telefono facendo finta che noi avremmo perso la sim, quindi viene chiamato il call center della compagnia telefonica nel momento in cui ovviamente devono sapere tanto di noi, devono sapere il nostro numero di telefono, il nome, il cognome, dove abitiamo, il codice fiscale, tantissime informazioni ed è per questo che nelle altre truffe è molto importante non dare informazioni personali, non dobbiamo dare mai informazioni personali, meno possibile e allora che succede? Questo tipo di spoofing prova a rubarci il numero di telefono per farselo riassegnare, perché questo gli è utile? Perché poi con quel numero di telefono loro possono simulare di essere noi e per esempio chiamare la nostra banca e chiedere di fare un bonifico oppure di autorizzare il bonifico, di rimandare, insomma possono succedere delle cose veramente pericolosissime, per cui anche qui la questione è un pochino più sofisticata, un po' più tecnologica, però è importante sapere che c'è anche questo pericolo, per cui nel momento in cui vedete messaggi strani o comunque che qui vi vengono richieste informazioni personali su siti di cui non sapete niente, non lasciate dati, la regola è solo questa, cercate di non lasciare mai dati, soprattutto quelli più personali come il numero di telefono, magari la data di nascita, mai lasciare carte di credito su siti che non conoscete e così via, attenzione perché le conseguenze possono essere veramente veramente molto drammatiche. Anche questa puntata del Tg del Salvagente è terminata, rimanete sempre aggiornati seguendoci sui canali social, leggendo la nostra rivista e visitando il nostro sito. Buon proseguimento di serata!